Nome? Luigi. Camilla. Soprannome? Gigi. Camilla. Cosa insegna? Musica. Social preferito? Facebook. Whatsapp. Materia preferita? Musica. Intervallo. Cibo preferito? Sushi. Pizza. Ti piace andare a scuola? Moltissimo. Sì. Che lavoro vuoi fare da grande? Un lavoro. Di un tuo pregio e un tuo difetto. Dunque, un pregio penso di essere abbastanza affabile, un difetto decisamente egocentrico. Un pregio intelligente e un difetto indeciso. Che squadra tifi? Di calcio? Il Lecce. Intervallo. Film preferito? Film preferito? Il pianista sull'oceano. Star Wars. Libro preferito? Libro Il Signore degli Anelli. Domande con voto da 1 a 10. Famiglia? 10. Amici? 11. Soldi? 6. Politica? 8. Amore? 9. Viaggi? 7. Web? 5. Preferenze? Acqua naturale o acqua frittata? Coca-Cola. Carne o pesce? Pesce. Pasta o lasagna? Pasta. Matematica o lettere? Musica? Matematica. Libri o film? Libri. Dolce o salato? Dolce. Giochi elettronici o giochi da tavolo? Fortnite. Giochi elettronici. Basket o calcio? Calcio. Basket.